Ultimi tifosi del Milan, oggi vi porto una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Vi racconterò tutti i dettagli in questo video di prima mano e preparatevi a rimanere a bocca aperta. Assicuratevi di essere iscritti al canale per non perdervi questa notizia bomba. Guardate qui, le informazioni che abbiamo sono. Ma come ha fatto il club a finanziare questi acquisti? È il caso di parlare del sostegno fondamentale del nostro proprietario, Gerry Cardinale. L'accessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro è stata una delle questioni più discusse dell'estate. Ma alla fine dei conti, il Milan poteva usare quei soldi in modo saggio. La dirigenza ha portato un totale di 10 acquisti e si è liberata di alcuni giocatori che non rientravano nei piani. Tuttavia, ciò che colpisce ancora di più è la spesa netta del Milan, ovvero la differenza tra ricavi e costi. In questo senso, siamo leader in Serie A, con una spesa netta di meno 45 milioni di euro. Ciò significa che, pur spendendo molto, riusciamo anche a generare entrate significative. Rispetto alle nostre rivali, Inter e Atalanta hanno dati positivi, rispettivamente con più 68 milioni di euro e più 87 milioni di euro. L'Inter, in particolare, ha bisogno di soldi per pareggiare i conti a causa dei debiti. Il sostegno di Gerry Cardinale è stato fondamentale per il nostro successo in questa finestra di trasferimenti, fornendo i fondi necessari per la gestione. Questo dimostra l'impegno e la fiducia del nostro proprietario nel progetto Milan. Ora voglio sapere cosa ne pensate voi tifosi. Cosa ne pensate della situazione finanziaria del club? Crediamo di non essere sulla strada giusta? Lasciate i vostri commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per ricevere le ultime notizie sul Milan in prima persona. Andiamo insieme alla ricerca di altri successi per il nostro Milan. Forza Milan, sempre!